ciao a tutti oggi vediamo questi supporti per minerali targhe fossili oggetti da collezione sono in metallo di buona fattura come si vede sono molto ben rifiniti cromati e sono di tre dimensioni qui vediamo con dei minerali appoggiati in particolare partiamo dal più piccolo è 6,3 per 4,8 la base e altezza 7,5 quello medio è 8,1 per 11,3 altezza 10,5 invece quello più grande 13,5 per 15,5 e anche qui un'altezza di 15,5 parliamo di centimetri naturalmente come si può vedere il più grande è proprio adatto a sostenere degli oggetti piuttosto grossi voluminosi e soprattutto pesanti stabilità completa assoluta vediamo come questi minerali siano piuttosto grossi eppure sono perfettamente sostenuti da questi supporti che quasi non si vedono perché restano sotto molto sottili e quindi non disturbano la parte diciamo davanti dove si guarda l'oggetto in esposizione rivediamo ancora dal più piccolo sono rifiniti molto bene la misura media infine quello più grosso più robusto proprio per oggetti piuttosto voluminosi io vi ringrazio spero di esservi stata utile nel caso vi interessassero questi tipi di supporti o altri per le vostre collezioni vi invito a consultare il nostro sito elettronicadidattica.com vi aspetto per i prossimi video non mancate se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale ciao a tutti a presto